Dopo Bardonecchia, Pinerolo e Pragelato siamo qui oggi a Torre Pellice e continua il nostro viaggio nei comuni del territorio metropolitano che dal 13 al 23 gennaio ospiteranno i FISU Games Torino 2025, i giochi universitari. Siamo con la sindaca, con Maurizio Allisio che ringrazio, e siamo al Palazzetto del Ghiaccio. E la prima domanda che viene spontanea in questo bel freddolino che ci accoglie e ci avvolge, ma come sta davvero il Palazzetto del Ghiaccio di Torre Pellice? Sono molto felice di dire che il Palazzetto del Ghiaccio Cotta Morandini di Torre Pellice finalmente sta di nuovo bene. Come potete vedere abbiamo il ghiaccio pronto, sabato 7 abbiamo aperto il Palazzetto con una grande partecipazione di tutta l'età, da bambini di 4 anni che si approcciano e iniziano a pattinare ai senior. Sabato avremo la prima partita di campionato, quindi sta molto bene. Adesso posso dire con gioia che sta bene, abbiamo attraversato anni difficili e le abbiamo risolti anche. Ci tengo a dire che adesso la proprietà del Palazzetto non è più della Regione e in gestione al Comune di Torre Pellice, ma in qualche modo il Comune di Torre Pellice è il Comune ospitante, ma il Palazzetto è di proprietà dell'Unione Montana e questo è molto corretto perché l'Hockey è della Val Pellice, infatti la squadra si chiama HC Val Pellice Bulldog, non si chiama HC Torre Pellice e la gestione è stata data proprio alla società sportiva che si è impegnata tantissimo per rilanciare le attività, per rimettere a posto il Palazzetto. Oggi quando sono entrata lo raccontavo, mi sono emozionata perché ho visto un Palazzetto non solo in buona salute, ma tenuto veramente bene, curato come era da tempo che non era più curato e quindi siamo pronti per ospitare le universiadi. Allora il ghiaccio è pronto, la mascotte Totag in occasione della Notte Bianca è venuta a trovarvi, a animare e a prestare l'attenzione sui giochi Torino 2025, quasi tutto a posto, nel mese di dicembre arriverà la Torcia Olimpica, quali altre attività di avvicinamento all'evento Torre Pellice sta mettendo in campo? Ma stiamo mettendo in campo soprattutto l'avvicinamento delle scuole all'evento delle universiadi, anche perché a Torre Pellice abbiamo un liceo sportivo, quindi sarà importante che gli sportivi del liceo partecipino, ma anche tutte le scuole. Infatti su proposta della FISU faremo due iniziative, che sono un murales sull'esterno del palazzetto, quindi lo balliremo con un ricordo delle universiadi e l'altro la piantumazione di alcune piante con un incontro con i carabinieri forestali che spiegheranno e si sceglieranno delle piante adatte, ma legate comunque a questo evento. Stavamo pensando di metterle nel parcheggio, così avremo il ricordo delle universiadi e l'ombra per chi verrà a parcheggiare.